Allora, che cosa si può fare? Beh, intanto io per esempio uso le dita come fossero bonghi, quindi prima lavoro con i bonghi proprio, che normalmente hanno due suoni acuti e grave già disposti nello spazio, e poi io che sono pianista ho il vantaggio che questa stessa disposizione spaziale si ritrova sul pianoforte, quindi gravi e acuti, gravi a sinistra e acuti a destra, e quindi la posso trasferire. Pensate a un insegnante di violoncello o contrabbasso o violino, la disposizione cambia completamente. Però io adesso vi faccio l'esempio sul mio strumento per capirci. Per esempio io mi premuro che l'associazione grave-acuto nelle mani del bambino venga creata prima che il bambino debba trovare grave e acuto sul pianoforte, quindi uso le dita come fossero bonghi e le sonorizziamo. Adesso non vedete la mia mano perché stiamo in video, però io sto muovendo il primo e il terzo dito, per esempio. Tum e il pollice, ta e il terzo. E facciamo dei ritmi giocando con le dita sul tavolo, sonorizzandoli con la bocca. E intanto creiamo delle associazioni, direzione, sinistra-destra, grave-acuto, che sono assolutamente fondamentali per poi leggere lo spartito. Se questa cosa manca, lo sforzo poi di leggere lo spartito diventa enorme. Non è che non ci si arrivi, ci si arriva, ma per prove d'errori e continui commenti da parte del... No, leggi è tre, non è due. Così si somma anche il problema di dover leggere continuamente le diteggiature e diventa veramente dura. Partiamo anche... cioè, sottolineiamo anche un altro aspetto. E cioè, che la percorribilità dello strumento, che sia correlata a un fine, rende lo strumento facilitante in termini attentivi. Vuol dire, se lo strumento ha una, come dire, una facilità, come può essere per dire il pianoforte, che è grave a sinistra e acuto a destra, esattamente come lo è sullo spartito do basso e do alto quando leggo una scala, questo mi facilita. Se io devo suonare invece, per esempio, il violoncello, dove i suoni acuti sono in basso e i suoni gravi sono in alto, beh, per un bambino dislessico questo somma ha problemi. Quindi, gli strumenti non sono tutti uguali e le caratteristiche e le difficoltà possono essere, diciamo, molto specifiche per lo strumento. Quindi, prima di presentare lo strumento a un bambino, dobbiamo lavorare per creare un affordance tra bambino e strumento. Cosa vuol dire affordance? Per capire cosa vuol dire affordance, facciamo un esercizio. Cioè, prendiamo questa... facciamo finta di prendere la tazzina per bere il caffè. Fatelo proprio fisicamente, anche se non posso vedervi. Bene, adesso riposatela sul piattino, per finta. Adesso fate proprio il gesto di prendere la tazzina e metterla nel lavandino. Ora, io sono sicura che per bere il caffè voi abbiate preso la tazzina col primo e il secondo dito, o il primo e il terzo, approcciandola dal manico. E poi, quando invece vi ho chiesto di metterla nel lavandino, ci sarete arrivati con la mano semi aperta, tipo come se doveste prendere una pallina da tennis, dall'alto. Perché? Perché l'aspetto fisico dell'oggetto permette all'utilizzatore di dedurne le funzionalità. Però, io devo avere una rappresentazione interna dello scopo della mia azione per manipolare l'oggetto. Quindi, a seconda di quello che io voglio fare, lo approccio in maniera diversa. Questa è l'affordance. L'affordance è una proprietà emergente tra l'oggetto e il soggetto. È la relazione tra oggetto e soggetto. Voi pensate che la rappresentazione degli effetti di un'azione è importantissimo per la comprensione del movimento. Vi faccio un esempio. Ci sono dei pazienti che si chiamano aprastici. Ne ho visti tanti, perché molte volte l'ictus porta aprassia. E cioè, sono pazienti che hanno lesioni, spesso all'emisfero sinistro, e non riescono più a organizzare l'azione congruente allo scopo dell'azione. Però, per esempio, hanno un sfasato, cioè non più corretto approccio all'oggetto. Per esempio, sono persone che magari devono lavarsi i denti, prendono lo spazzolino e poi lo usano per pettinarsi i capelli. Questo è, per esempio, un fenomeno aprastico. Bene, è stato studiato che questi soggetti hanno difficoltà persino a riconoscere i rumori che vengono prodotti da movimenti che non sono più in grado di fare. Per esempio, se sono emiplegici e non sono più in grado di battere le mani, non riescono neanche a riconoscere il suono del battito di mani. Pensate che stretta connessione multisensoriale c'è nel cervello per l'analisi delle informazioni, il motorio e l'uditivo. Quindi è necessario che io possa rappresentarmi gli effetti di un'azione per programmare l'azione motoria. Il che vuol dire che nel momento in cui io suono uno strumento, io devo avere questa affordance, questa proprietà emergente con lo strumento, che non è né nello strumento né dentro di me, ma nella relazione tra noi due. Quindi più io in automatico vedo nella fisicità dello strumento diciamo il risultato sonoro che posso ottenere nel manipolarlo, e più sarà automatico e intuitivo il mio utilizzo dello strumento stesso. Ora, potete immaginare facilmente che gli strumenti non siano tutti uguali, perché è intuitivo guardando due bonghi, diciamo, comprenderne l'uso. L'approccio del bambino ai due bonghi è subito corretto. L'alternanza delle due mani, il fatto di colpirli dall'alto. Il pianoforte ha comunque un affordance, diciamo, suscita un affordance abbastanza intuitiva, il violino molto meno. Il pianoforte può avere dei problemi nel momento in cui sono distrutte queste associazioni spaziali, destra-sinistra, alto-basso, quindi quello che per me è istintivo può non esserlo per un bambino. Però, diciamo, tendenzialmente dobbiamo renderci conto che ogni strumento ha una sua, diciamo, percorribilità che induce un gesto e questa funzione, diciamo, questo principio anzi emergente tra lo strumento deve nascere lentamente, deve essere anche questa, come dire, stimolata. Cosa intendo dire con questo? Intendo dire che non dobbiamo temere di usare strumenti musicali semplici anche durante le lezioni di strumento, cioè c'è l'ora di lezione di pianoforte o di violino. Noi abbiamo un po' l'ansia da prestazione, un'ora di violino, a volte 40 minuti, perché le lezioni ormai si fanno un po' più corte, oddio, è già poco, facciamo subito, perché sennò perdiamo tempo. Invece dobbiamo renderci conto che a volte la percorribilità di uno strumento più semplice fa sì che noi possiamo, presentando la lezione, lavorare su alcuni aspetti del brano, isolandoli, creando dei pattern, creando magari delle semplificazioni, che sono, diciamo, propedeutiche alla lettura del brano. Quindi prendere delle cellule, trasformarle in cellule ritmiche da suonare con dei bonghi, è qualcosa che possiamo fare anche durante la lezione di strumento, perché è finalizzata alla lettura, allo strumento, e non dobbiamo in qualche modo pensare di uscire dal seminato del nostro lavoro, di in qualche modo perdere un po' tempo, che dovremmo dedicare invece alla tecnica strumentale. Se non siamo abbastanza convinti di questa cosa che vi ho detto, possiamo appoggiarci a un principio teorico, estremamente veritiero, che si chiama principio dell'equivalenza motoria, che dice una cosa molto semplice, e cioè che ci sono tutta una serie di compiti mentali che il cervello deve mettere in atto, adesso facciamo un esempio con la scrittura, per scrivere, per esempio, il proprio nome su un foglio. Immaginiamo che il bambino debba imparare a scrivere il proprio nome su un foglio. Quindi ci alleniamo con le letterine, il copiare. Bene, se noi chiediamo al soggetto di scrivere il proprio nome con la punta del piede sulla sabbia, ovviamente la programmazione motoria è diversa, una è dell'arto inferiore, l'altra è dell'arto superiore, anche il movimento stesso è diverso. Ma ci sono tutta una serie di competenze cognitive che adesso dovrebbero esservi anche già un po' chiare, perché ne abbiamo parlato abbastanza lungo, che invece sono esattamente uguali. E si allenano che io stia scrivendo col piede o con la mano. Equivalenza motoria. Allora, se io suono i bonghi durante la lezione di violino, io sto lavorando comunque all'apprendimento del violino, ecco, questo. Perché sto lavorando su una serie di competenze cognitive che non dipendono dall'effettore, dal gesto specifico, ma dipendono dalla programmazione dell'azione, dalla, come dire, questa bella frase, che è dalla rappresentazione degli effetti dell'azione, quindi dallo scopo dell'azione. Per cui non abbiate assolutamente riserve sull'uso di questi strumenti, diciamo, semplici e che per me sono compensativi. Ne parlava già Maria Montessori ai tempi che furono. Lei, tra le attività che preparavano il bambino alla lettura, utilizzava quella di seguire con il dito il contorno di grandissime lettere di carta vetrate. Oggi si usano le lettere tattili in riabilitazione della dislessia. Ed è stato anche dimostrato, in tempi ben più recenti di quelli in cui lavorava Maria Montessori, che è questo approccio multisensoriale, quindi di questo utilizzo del movimento anche in maniere diverse, ma su stimoli simoli, per esempio sulle lettere, è più utile che l'allenamento visivo fonologico dove magari il movimento della mano non viene amplificato. Allora, questo ci fa pensare anche ad una cosa importante, cioè c'è una sproporzione enorme per quanto riguarda lo studio della musica tra la quantità di ore che passiamo a leggere la musica e la quantità di ore che passiamo a scrivere la musica. Perché in realtà noi scriviamo musica poco, almeno poco lo fanno i nostri allievi, poi se siamo dei compositori ovviamente è diverso, però io mi rendo conto che le ore che ho passato nella mia vita a leggere brani al pianoforte sono immensamente di più rispetto alle ore che ho preso appunti su un pentagramma vuoto e quindi ho scritto le note sul pentagramma. E questa cosa non è positiva perché scrivere le note migliora la capacità di leggerle. Quindi leggere le note non è solo trovare i tasti sullo strumento o le posizioni delle dita sullo strumento, ma è anche proprio vedere quei pallini, vederne la posizione, quindi scriverli ci aiuta a riconoscerli sempre meglio e le due cose dovrebbero andare di pari passo. Quindi anche se il ragazzino è dislessico, l'approccio non è eliminiamo lo spartito, andiamo su imitazione, e l'approccio non è neanche evitiamo di scrivere che già ha difficoltà a leggere, tutt'altro, anzi, caldeggio per un continuo uso della scrittura anche per bambini che la dislessia non ce l'hanno. Consideriamo anche che le mani del musicista sono impegnate sullo strumento praticamente sempre e quindi non le usiamo mai per scrivere le note. Quindi a volte bisogna liberarle, le mani, e utilizzarle per scrivere, meglio ancora se su una grossa lavagna, così come nella filosofia Montessori, amplifichiamo il gesto in maniera da dare questo respiro al movimento che diventa macro e non micro e quindi i tratti grafici assumono molta più rilevanza. La lavagna pentagrammata è un fondamentale strumento compensativo. Abbiamo già detto che il tempo è l'unico senso che non ha un orviano deputato e per noi è un grande casino perché noi abbiamo bisogno di leggere a tempo la musica per riuscire a darle, diciamo, dare alla decodifica un'espressività perché per sentire la sonata di Mozart così com'è nel momento in cui la suono devo suonarla a una velocità minima che mi permetta comunque di formare i miei raggruppamenti uditivi, sentire la melodia, sentire il basso albertino, ecc. Quindi ho bisogno di leggere a tempo e il tempo implica la coordinazione motoria e implica anche il senso del tempo che però non ha un senso dedicato ma è un insieme di coordinazione motoria e rappresentazione visiva l'abbiamo già detto nelle precedenti slide. Quindi tutto questo ci dice che è importantissimo fare esercizi per rafforzare queste rappresentazioni spaziali. sullo strumento con l'associazione alla notazione abbiamo parlato già di sonorizzazione delle dita questo nel caso di pianisti poi ognuno di voi a seconda dello strumento che insegna dovrà trovare i suoi giochi i suoi escamotage per creare queste associazioni io ho fatto l'esempio delle dita come fossero bonghetti per creare l'associazione sinistra-destra grave-acuto e nel frattempo la coordinazione motoria io per esempio utilizzo il pentagramma da destra e sinistra ma evito il doppio pentagramma e soprattutto per far vedere chiaramente i ragazzi prima e dopo quindi sinistra e destra uso lavagnetta pennarello in cui disegno cellule ritmiche cioè scrivo cellule ritmiche insieme a loro e poi giochiamo ad invertirle quindi spostiamo le lavagne quella di sinistra diventa quella di destra le rileggiamo invertendole finché non si crea bene l'associazione che prima viene quella di sinistra e poi quella di destra e intanto ci stiamo abituando alla lettura poi io utilizzo per esempio per quanto riguarda la mano sinistra al pianoforte bicordi i bicordi ricostruisco dando alla nota fondamentale il nome quindi è una notazione armonica non è su pentagramma ma i bicordi si chiamano che ne so do due, do tre, do quattro, do cinque do è la nota fondamentale e il numero è la nota successiva quindi se parliamo di mano sinistra sto di nuovo rivolgendomi ai pianisti io avrò sempre il quinto dito che suona do che è la fondamentale e poi una delle altre due dita che suonano la seconda do re la terza do mi la quarta do fa la quinta do sol in maniera da cominciare a pensare che ci sia una base una radice che è più bassa che è il do la fondamentale che è scritta in lettere do e poi dei numerini che crescono scendono secondo la linea dei numeri da sinistra verso destra e che sono abbinati a un movimento sul pianoforte cosa vuol dire questo? vuol dire che io mi metto e riscrivo i repertori o li compongo apposta per dare al repertorio queste caratteristiche ora passiamo all'ultima tappa la tappa ortografica nel modello tre stadi di apprendimento nella tappa ortografica si crea un repertorio di unità visive di dimensione variabile per apprendimento statistico quindi ci sono già sillabe fonemi tutto già diciamo associato grafema fonema quindi che chi sta va da in base alla frequenza d'uso di combinazioni e l'abilità quindi non sta più nel numero di sillabe nella complessità dei grafemi perché si attiva la via lessicale l'abbiamo detto prima quindi io attingo dalle parole che già conosco che sono a livello lessicale correlate avevamo detto farmacia dottore ambulanza vi ricordate che sono diciamo preattivate alla coscienza poi mentre sto utilizzando la decodifica grafema fonema neanche più grafema fonema ma ormai stiamo parlando di sillabe lettere io riesco a leggere la parola perché vado diciamo a legarla ad altre parole che già conosco che sono correlate se non semanticamente anche proprio come successione di sillabe qui c'è l'esempio ballo ballo fallo se la parola nuova tipo mallo compare tra le parole simili con significati diversi in realtà la lettura rallenta perché c'è un'interferenza del magazzino lessicale se invece la parola ballo fosse diciamo la parola target non sarebbe diciamo influenzata anzi sarebbe facilitata se i vicini fossero se io vicino nella lettura avessi danza ballo ballerina allora a quel punto la parola ballo la leggo più velocemente quindi la vicinanza fonologica mi inibisce la lettura la vicinanza semantica invece no questo per questo motivo che c'è un modello di lettura che avviene per due vie la via lessicale e la via fonologica la via lessicale permette l'accesso diretto al significato delle parole quindi per esempio musica musica significato leggo le non parole tipo trafio che è una non parola non esiste vengono lette con la via fonologica per forza perché non vogliono dire niente quindi non posso attingere a una via lessicale e quindi devo per forza avere la conversione grafema fonema e fonema grafema quindi leggerò trafio ok trafio via fonologica ci sono parole che richiedono entrambe le vie per esempio se io leggo la parola chiesa scritta con la k leggo chi e sto usando la conversione fonologica però poi appena il mio occhio vede la parola intera in realtà passo a una conversione attraverso il significato perché capisco che c'è un errore di scrittura ma in realtà il suono è chiesa così come glicine è il contrario cioè io leggerei il glicine se passassi per una via fonologica però la via lessicale fa sì che io sappia che in quel caso devo leggere gli allora questo accesso a entrambe le vie può essere deficitare nei dislessici e lì vengono fuori una serie di errori anche ortografici trasferiamo queste cose che ci siamo dette detti in musica per quanto riguarda l'effetto dei vicini ballo mallo fallo il vicino diciamo fonologico o comunque la similitudine grafica del grafema e anche del fonema perché è simile il suono inibisce la lettura di mallo che è la parola target la stessa cosa può avvenire quando c'è un'associazione di suoni molto simili basso albertino per esempio per cui in realtà è inibita la lettura perché sono tutti più o meno simili ora non chiaramente noi che siamo lettori esperti ma parlo di un ragazzino sono tutti più o meno simili sia da un punto di vista grafico che come vicinanza diciamo sonora che sono abbastanza adiacenti come suoni allora un grosso aiuto può essere il supporto della via lessicale ovviamente se il bambino è abituato ad associare i nomi degli accordi a un gruppo di note cosa che io consiglio caldamente sbagliatissimo fare armonia dopo teorie sul peggio l'armonia va fatta di pari passo con la lettura per questo io uso i bicordi do 2 do 3 do 4 e do 5 sono 4 bicordi dove non c'è differenza maggiore minore sono semplici numerini che però indicano una successione di note da lì fare do 3 5 ci vuole un attimo e da dire do 3 5 chiamiamolo do ci vuole ancora un attimo però questo fa sì che io cominci ad avere lentamente delle competenze armoniche che mi permettono poi di siglare dei gruppi di note delle cellule e questo fa sì che il bambino possa leggere magari la mano destra quindi la melodia in maniera tradizionale quindi grafema suono lettura globale di cellule secondo il profilo melodico ma nello stesso tempo ricordarsi la mano sinistra in maniera diciamo un po' memoria utilizzando la memoria semantica che fa sì che mi ricordo che do maggiore o do è fatto da do mi sol 1 3 5 e questo elimina un po' l'effetto ballo ballo fallo nella lettura che se sommano due pentagrammi la coordinazione di due mani eccetera diventa troppo allora io utilizzo appunto la notazione che vi ho fatto vedere nel brano quello con i bicordi proprio per questo motivo questa è una slide che fa vedere delle vie di lettura come tutte concorrono allora questo pallone blu sono le entrate visive quindi l'area visiva primaria le zone occipitali fin qua ci siamo poi vi ricordate che qua c'è la visual world form area quindi qui arrivano stiamo parlando di lettura di lettere di parole quindi si arriva la informazione dagli occhi che sono qua arriva la corteccia visiva qui dietro e poi parte e va alla visual world form area che analizza la forma grafica delle lettere a quel punto manda le informazioni in giro una via è quella che dal giro fusiforme passa e va nelle regioni frontali va nelle regioni temporali questa verde è la via di accesso al significato vedete che va anche al giro angolare il giro angolare era quell'area che ci permetteva l'elaborazione cioè la rappresentazione immaginaria per esempio dei numeri su una linea orizzontale da 1 a 10 quindi l'accesso al significato passa attraverso questa capacità vi ricordate che dicevamo soggetto verbo complemento oggetto il giro angolare ci permette di rappresentare nello spazio questi concetti quindi fa parte della rete che nella lettura ci permette l'accesso al significato contemporaneamente però c'è questa area gialla che ci permette l'accesso alla pronuncia all'articolazione e quindi ci sono tutta una serie di aree che riguardano proprio l'articolazione buco-motoria buco-facciale in tutto questo c'è anche un'attenzione diciamo alla parte spaziale quindi a come sono disposte le lettere sul foglio o le parole sul foglio che riguardano delle regioni parietali posteriori qui quindi questo slide riassume un po' tutto quello che abbiamo detto sulle varie vie di lettura fino adesso quindi ci sono in realtà diversi tipi di dislessia l'abbiamo detto all'inizio di queste slide una dislessia superficiale che ci impedisce diciamo la lettura di parole irregolari come glicine per cui sono parole per cui è necessario l'accesso al lessico se l'accesso al lessico è deficitario la lettura di quelle parole che prevedono la via lessicale senza l'appoggio della via fonologica diventano diciamo diventano difficoltose se invece la dislessia è di tipo fonologico quindi riguarda più la via di lettura fonologica di trasduzione grafema fonema allora diventa difficile la lettura di non parole o di parole sconosciute le due difficoltà possono essere diciamo associate può esserci più una o più l'altra in genere bambini che hanno dislessia fonologica fanno errori di lettura in cui per esempio sostituiscono parole che sono diciamo sinonimi quindi leggono una frase e magari una parola viene sostituita con un'altra parola che è assolutamente coerente in termini di significato ma che non è quella che è scritta perché si appoggiano istintivamente alla via lessicale perché quella invece fonologica è difficoltosa quindi loro cercano di non associare diciamo a ciò che vedono sul foglio dei suoni che diventano parole ma vanno a tingere al lessico e quindi si basano più sul significato e viceversa invece ci sono bambini che leggono ancora blocchi di lettere perché non hanno una diciamo un accesso facilitato alla via lessicale che permette invece diciamo l'ultima tappa di elaborazione della scrittura che permette l'accesso al lessico e quindi sveltisce la lettura le due cose possono essere compresenti e riguardano quelle capacità di coscienza fonemica e anche coscienza semantica che vanno sviluppate noi dobbiamo fare la stessa cosa nella musica per quanto riguarda la coscienza fonemica che noi possiamo chiamare coscienza del suono abbiamo già parlato molto di creare dei pattern di cantare di scriverli semplificati di suonarli su strumenti semplici magari a percussione per eliminare variabili quindi a volte lavoriamo sul ritmo a volte lavoriamo sulle altezze eliminiamo magari il problema di coordinazione motoria lo strumento con strumenti facilitanti e via dicendo per quanto riguarda la coscienza semantica invece ne abbiamo parlato meno l'abbiamo cominciato ad accennare adesso l'uso della notazione siglata dell'armonia fin da subito ovviamente molto molto semplificata ma fin da subito perché questo è un modo per attivare la via lessicale cioè l'accesso al lessico grazie a tutti